L'inizio dell'arte moderna ha un nome, Giotto di Bondone. La sua pittura, così semplice, diretta e universale, che Dante celebrò nella sua commedia, incanta e ispira da oltre sette secoli. Ma è stato il Novecento il periodo della riscoperta dell'artista toscano, da Carlo Carrà a Henri Matisse, da Lucio Fontana a Yves Klein. In tanti l'hanno ammirato, studiato ed emulato. Al martedì Rovereto, una mostra ideata da Vittorio Sgarbi e curata da Alessandra Tidia racconta quanto l'opera di Giotto sia stata fondamentale per l'arte del ventesimo secolo. Giotto è un artista consacrato della storia e però il Novecento ne intende l'assoluta attualità. Prima Cézanne in Francia, che costruisce la sua Mont Saint-Victoire con degli schemi geometrici che richiamano Giotto e i suoi paesaggi. E poi, dopo le avanguardie del futurismo e del cubismo, in Italia una sensazione, una coscienza di ritornare alla stabilità delle forme classiche e quindi vedere in Giotto quella pittura primitiva da cui tutto parte. Se nell'Ottocento il mito di Giotto era legato all'idea del genio prodigio scoperto da Cimabue, nel corso del Novecento l'attenzione degli artisti si sposta sulla rappresentazione dello spazio, sulle cromie e sui valori formali della sua pittura. Uno dei primi ad instaurare un dialogo con la sua opera è Carlo Carrà. Carlo Carrà è stato forse il primo degli artisti che dichiara la sua attenzione, il suo interesse, la sua comprensione dell'arte giottesca. Scrive questo testo magnifico che l'ha parlata su Giotto nel 1916 e questo diventa un momento importante che è testimoniato dall'apertura della mostra che è dedicata proprio a dei capolavori assoluti di Carrà come iniziatore dell'attenzione novecentesca per Giotto. Come Carrà anche De Chirico, Giorgio Morandi e Carlo Bonacina ricercano nell'opera di Giotto la purezza delle linee e la solidità dei volumi, mentre Mario Sieroni e Arturo Martini reinterpretano soprattutto la sua monumentalità. Nei loro lavori donne e uomini, imponenti e maestosi, abitano lo spazio, lo trasformano e spesso lo oltrepassano. Martini è scultore ma la forma plastica, cioè la consistenza dello spazio, delle montagne, degli alberi, le presenze sintetiche che sono nell'opera di Giotto, nella Cappella di Scrovegni e anche ad Assisi, sono il punto di partenza per le forme pure e assolute delle sculture di Martini. Quindi i più importanti maestri, dopo le avanguardie futuriste, guardano Giotto come un nuovo inizio, quindi Giotto è per loro l'equivalente di quello che in tutto il secolo è stato Picasso. Giotto è Picasso. Alla Cappella degli Scrovegni di Padova, la cui riproduzione digitale è visibile in mostra, si è ispirato anche Matisse, il più importante esponente del fovismo. Matisse in tre occasioni ha modo di vedere la Cappella degli Scrovegni e nel suo Icaro che qui mostra abbiamo esattamente la stessa stella che ricorre nel cielo degli Scrovegni e questo fascino che questa grande rappresentazione riesce ad esercitare fa dire a Matisse quando alzo gli occhi e vedo il cielo di Giotto non mi interessa sapere quale storia di Cristo davanti ma vengo coinvolto nel sentimento del colore, delle linee. Il ritmo, la semplicità e il colore per l'artista francese dovevano stimolare il piacere dei sensi e come già Giotto aveva intuito nel 1300 per suscitare emozioni non è necessaria una vasta gamma cromatica, basta il nero, il bianco, il verde, le sfumature del marrone e il blu. Il novecento è attraversato da questa attenzione verso la semplicità, verso i valori molto immediati e plastici e la mostra cerca di mettere in relazione proprio tutti questi elementi fino ad arrivare all'astrazione del blu di Klein che è un blu energetico potente, è una specie di magnete che ci cattura all'interno della mostra e che appunto Klein dichiara di aver assunto dalla sua visita ad Assisi nella Basilica di San Francesco e da lì che nasce appunto questo amore sconfinato di Klein per questo colore che è il colore dell'assoluto, è il colore dell'infinito. Assoluto e infinito è anche il blu del concetto spaziale 65B6 di Lucio Fontana nel 1965. I cieli stellati dipinti a Padova e Assisi qui diventano costellazioni, mentre nelle opere di Fausto Melotti e Mark Rochko il pigmento diventa materia quasi palpabile. Rochko in uno dei suoi scritti aveva definito tattile il colore di Giotto. Ecco una persistenza di Giotto in una memoria inconsapevole dell'ultima parte del Novecento. Artisti come Rochko, come Fontana, come Klein non so se abbiano pensato a Giotto ma Giotto era pensato dentro di loro cioè lo avevano come una persistenza di visione che anche in modo inconsapevole porta a qualcosa che risale a quell'inizio che Giotto rappresenta. In esposizione nelle sale del Mart ci sono oltre 200 opere divise in sette sezioni tematiche con lavori di artisti anche meno noti il cui linguaggio moderno e contemporaneo è stato influenzato da Giotto. Si chiude con Tico Blu di James Tourelle, una stanza in cui il colore diventa luce. Quest'installazione insieme a Giotto behind the mirror dell'italiana Chiara Dinis dimostra che la potenza ispiratrice del pittore trecentesco ancora non è esaurita.